Il Gubbio guarda al futuro aprendo le porte a nuovi soci, parole del presidente Notari. Ieri a fuorigioco ospite il DS Pannacci che parla di qualche errore commesso ma sempre dice per il bene della squadra. Giovedì incontro con Palermo. Due giorni di gare di atletica e ciclismo per 250 studenti e gubbini alle Olimpiadi dei Ragazzi promosse da CCR e Scuola Media Mastro Giorgio Nelli. Un modo per far scoprire il bello dello sport ai più giovani. Buonasera il TG Sport con in apertura le parole del direttore sportivo del Gubbio Giuseppe Pannacci e del presidente Sauro Notari. Ieri a fuorigioco il numero uno di via Parruccini ribadisce la volontà di ampliare la compagine societaria mentre il DS ha analizzato quanto fatto di buono e meno buono in stagione. Ma guardando al futuro a cominciare dall'incontro di giovedì con Simone Palermo che potrebbe essere il primo colpo per la prossima stagione. Quando faccio determinate cose mi piace sempre farle al massimo delle quelle che sono le mie disponibilità e le mie possibilità dal punto di vista professionale. Quando mi ha dato questo incarico Sauro Notari ho cercato sempre di fare il meglio. Uno per il Gubbio essendo di Gubbio, due nell'interesse di quello che potevano essere sia la società sia la squadra ma nello stesso tempo anche la collettività. Lo so che è un discorso che è un po' fila poco perché quando uno fa un ruolo e riveste il ruolo a livello professionistico dovresti pensare solo ed esclusivamente. Si riparte da Sandriani. Io credo un ragazzo che ha voglia di emergere, un ragazzo che a me piace, volenteroso e di conseguenza oggi è importante anche queste figure che hanno voglia di fare, che hanno voglia di stare, di fare gruppo con i ragazzi e perciò serve anche questo. Sono convinto, e questo però non c'è niente di certo, ma sono convinto che è la persona giusta per la stagione che viene questa futura. Spero che ci sia la gente, se parliamo economicamente, ma non solo questo, ci siano dei personaggi che hanno voglia di fare nel rispetto delle regole e per me c'è sempre la porta aperta perché più siamo e meglio è, ma non solo economicamente, ma anche per consigli giusti, consigli sbagliati, i consigli vanno sempre accettati, poi se ne fa una cernita e speriamo di sbagliare il meno possibile. Perciò io faccio un appello a tutti, chi è che le porte sono aperte, chi è che ha voglia di stare e di venire in società, le porte sono aperte. Il rammarico più grande, io lo dico sempre, il rammarico più grande è non essere stato in grado di prerogare la causa e far fermare, io parlo dal punto di vista calcistico, e far fermare Alfredo Romano Gubbio per un'altra stagione. Simone Palermo è un giocatore che noi giovedì ci incontreremo, quindi con il Presidente, il Presidente sa tutto, e quindi valuteremo quelle che possono essere delle situazioni di potere in qualche maniera chiuderlo. Non è mai facile perché comunque sia Simone è un giocatore che viene da tre anni di Serie B, è un giocatore che ha ritornato a fare il giocatore a Gubbio e quindi ha ritrovato la sua dimenzione perché è un buon giocatore, va bene, e nello stesso tempo sicuramente farà le sue valutazioni, però quello che va detto di Simone Palermo è che anche lui è rimasto molto legato a questa città, a questi tifosi, e sicuramente è la prima squadra che tiene fortemente in considerazione. Poi non è detto che se uno la tiene in considerazione si possa in qualche maniera concludere. Sul fronte mercato, tra i nomi che circolano per l'attacco rosso-blu, si fa anche quello di Matteo Brunori Sandri, 24enne, attaccante del Villa Biagio, capocannoniere del campionato di Serie D, con la squadra Umbra che non è riscritta e compagno di squadra la scorsa stagione dell'Eugubino Francioni. Per lui 23 gol in 34 presente, è arrivato il Parma che lo ha acquistato e potrebbe girarlo in prestito alla Serie C. Intanto nuove soddisfazioni arrivano per le giovanili rosso-blu dopo il finale di stagione lusinghiero per Berretti Under 15. Proprio il portiere della formazione Under 15, Pietro Montanari, classe 2003, è stato convocato nella rappresentativa di Lega Pro Under 15 per il torneo Cittacava dei Terreni, dove partecipa con la selezione guidata da mister Daniele Arrigoni. Due giorni di gare, atletica e ciclismo per oltre 250 studenti ogubini delle Olimpiadi dei Ragazzi, promosse dal CCR di Gubbio e dalla scuola media Mastro Giorgio Nelli. Un modo per far scoprire il bello dello sport ai più giovani tra lo Stadio Barbetti e la pista ciclabile. Vediamo. Si è chiusa con successo la due giorni di gare a Gubbio nell'ambito delle Olimpiadi dei Ragazzi, un evento a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli. In programma tra lo Stadio Barbetti e la pista ciclabile Le Cerque, una serie di gare di atletica, di ciclismo e corsa campestre, il tutto in collaborazione con la Gubbio Ciclismo Mocaiana, la Gubbio Runners e l'Associazione KT e la preziosa collaborazione del Liceo Sportivo Mazzatinti e della Gubbio Calcio. La manifestazione ha previsto due momenti. Nella giornata di ieri si sono svolte le attività di atletica, soprattutto la velocità, organizzata dal KT di Gubbio. Mentre invece nella giornata di oggi sono state previste due gare, una gara che prevedeva corsa in bici, organizzata dal ciclismo mocaiana, e una gara di corsa campestre, organizzata dalla Gubbio Runner. E questa è un'ottima collaborazione tra la scuola, il comune e le realtà sportive del territorio. Questi ragazzi si devono comunque rendere conto anche di queste opportunità che offre il territorio, in modo tale da scegliere un'attività sportiva da perseguire poi per la vita. L'iniziativa, come già in passato molto partecipata, è giunta alla sua quarta edizione. Si propone infatti di avvicinare i ragazzi allo sport come mezzo per la promozione del benessere, della salute della persona, del rispetto degli altri, del divertirsi e dello stare insieme all'insegna di una sana competizione. Hanno partecipato all'iniziativa in totale circa 250 giovani che si sono sfidati nelle singole discipline. Preziosa anche la presenza degli studenti del liceo sportivo del Polo Mazzatinti, coordinati dal professor Maurizio Migliarini, che con capacità e competenza hanno supportato le associazioni per un corretto svolgimento delle gare. Iniziativa che per loro è stata riconosciuta anche come alternanza scuola-lavoro. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche giovanili allo sport del Comune, Gabriele Damiani, che ha evidenziato la riuscita dell'iniziativa grazie alla collaborazione di tutti, dai docenti in primis coinvolti alla cooperativa sociale Asad, fino al gruppo Siami. Chiudiamo con il calcio a 5 e mentre si attende la finale di ritorno di Serie B, domenica ad Agrigento, un'altra impresa arriva per il Fuzzale Ugubino ed è quello del Fontanelle, che è salito sul podio tricolore conquistando il terzo posto nella Final Eight del campionato giovanistimi, disputata nel primo fine settimana di giugno sui campi della Romagna. Un risultato storico e di portata unica perché nessuna formazione Umbra si era mai spinta tanto in là nel corso degli ultimi anni contro la Fenice Venezia Mestre, formazione certamente molto più avvezza a simili palcoscenici. Gli Ugubini hanno tenuto botta per 60 minuti, riuscendo a chiudere con la porta inviolata, nonostante i Veneti abbiano menato le danze e prodotto un lungo e asfiziante possesso palla. La fine della vittoria è arrivata ai calci di rigore, Fontanelle dunque tra le grandi d'Italia, la sensazione è che non sia affatto una casualità. Lo Scudetto se lo prende la Osta che in rimonta supera 6-3 la Meridiana Catania. Soddisfatto a fine torneo il responsabile del settore giovanile bianco-azzurro, Giorgio Butto, torniamo a casa detto con un terzo posto che vale tanto e che certifica la nostra crescita di cui confidiamo poter far tesoro anche negli anni a venire. Era l'ultima notizia per questo TG Sport, grazie per averci seguito, buona serata. Grazie.